e questa possibilità di cercare nel salotto di madame de guermont tra i suoi amici il mistero del suo nome mi era tanto più necessaria in quanto questo mistero non lo trovavo nella sua persona quando la vedevo uscire il mattino a piedi o il pomeriggio in carrozza certo già nella chiesa di combrè in una fulminea metamorfosi le sue guance mi erano apparse irriducibili impenetrabili al colore di quel nome guermont e dei pomeriggi sulla riva della vivon e lei stessa diversa nel mio sogno folgorato come un dio o una ninfa improvvisamente trasformati in un cigno o in un salice che sottomessi ormai alle leggi della natura l'uno scivolerà sull'acqua e l'altro sarà agitato dal vento tuttavia quei riflessi svaniti appena mi ero allontanato da lei si erano riformati come riflessi rosa e verdi del sole al tramonto dietro il convoglio che li ha spezzati e nella solitudine del mio pensiero il nome non aveva tardato ad appropriarsi anche del ricordo del suo volto ma ora spesso la vedevo alla finestra nel cortile per strada e io perlomeno se non riuscivo a includere in lei il nome di guermont a pensare che era proprio madame de guermont accusavo l'impotenza del mio spirito a compiere fino in fondo l'atto che gli chiedevo ma lei la nostra vicina sembrava commettere il medesimo errore anzi peggio commetterlo senza turbamento senza nessuno dei miei scrupoli senza nemmeno il sospetto che fosse un errore così madame de guermont mostrava per i suoi vestiti la stessa preoccupazione di seguire la moda come se credendosi diventata una donna come le altre avesse aspirato a quell'eleganza del vestire nella quale donne qualsiasi potevano uguagliarla superarla forse l'avevo vista per strada guardare con ammirazione un'attrice molto elegante e il mattino al momento in cui dovevo uscire a piedi come se l'opinione dei passanti di cui lei faceva risaltare la volgarità portando in giro familiarmente in mezzo a loro la sua inaccessibile vita dovesse contare per lei come un verdetto potevo scorgerla davanti allo specchio con una convinzione esente da doppiezza ironia con passione con malumore con orgoglio come una regina che abbia accettato di rappresentare la parte di una servetta in una commedia di corte recitare quel ruolo così inferiore a lei di donna elegante e nell'oblio mitologico della sua originaria grandezza stava attenta che la sua veletta fosse ben tesa appiattiva le maniche sistemava il mantello così come il cigno divino compie tutti i movimenti della sua specie animale mantiene senza sguardo i suoi occhi dipinti ai due lati del becco e si butta d'un tratto su un bottone o un ombrello da cigno dimenticandosi d'essere un dio ma come il viaggiatore deluso dal primo aspetto di una città si dice che ne penetrerà forse il fascino visitando nei musei entrando il rapporto con la gente lavorando nelle biblioteche così io mi dicevo che se fossi stato ricevuto da madame de guermont se fossi diventato suo amico se fossi penetrato nella sua esistenza avrei conosciuto ciò che sotto il suo involucro aranciato e brillante il suo nome racchiudeva realmente obiettivamente per gli altri poiché tutto sommato l'amico di mio padre aveva detto che l'ambiente guermont era qualcosa di a parte nel faubourg saint germain la vita che supponevo vi si conducesse aveva un'origine così diversa dalla comune esperienza e mi sembrava dover essere così particolare che non avrei potuto immaginare alle serate della duchessa la presenza di persone che io avessi frequentato un tempo cioè di persone reali infatti non potendo cambiare di colpo natura vi avrebbero tenuto discorsi analoghi a quelli che conoscevo i loro partner si sarebbero forse abbassati a rispondere loro nello stesso linguaggio umano e durante una serata nel primo salotto del faubourg saint germain ci sarebbero stati momenti identici ad altri che avevo già vissuto il che era impossibile è vero che il mio spirito era inceppato da certe difficoltà e la presenza del corpo di gesù cristo nell'ostia non mi sembrava un mistero più oscuro di quel primo salotto del faubourg situato sulla riva destra e di cui potevo sentire al mattino dalla mia camera battere le poltrone durante le pulizie ma la linea di demarcazione che mi separava dal faubourg saint germain per il fatto di essere solamente ideale mi sembrava proprio per questo più reale sentivo chiaramente che era già faubourg lo zerbino dei germont steso dall'altra parte di quell'equatore e di cui mia madre aveva osato dire avendolo visto come me un giorno in cui la porta era aperta che era veramente in pessimo stato del resto quella loro sala da pranzo quella loro galleria buia con le poltrone dall'imbottitura rossa che potevo scorgere a volte dalla finestra della nostra cucina come avrebbero potuto non sembrarmi possedere il fascino misterioso del faubourg saint germain farne parte in maniera essenziale esservi geograficamente situate visto che venirvi ricevuto voleva dire aver varcato la soglia del faubourg saint germain averne respirato l'atmosfera poiché coloro che prima di andare a tavola sedevano a fianco di madame de guermont sul canapè di cuoio della galleria facevano tutti parte del faubourg saint germain forse anche altrove non solo nel faubourg a certe serate si poteva vedere a volte primeggiare maestosamente sulla banale massa della gente elegante uno di quegli uomini che non sono che nomi e che di volta in volta quando si cerca di rappresentarseli evocano un torneo o una foresta demaniale ma qui nel primo salotto del faubourg saint germain in quella buia galleria c'erano solo loro in una materia preziosa erano le colonne che sostenevano il tempio anche per le riunioni familiari madame de guermont non poteva scegliere che tra di loro i suoi invitati e nei pranzi di dodici persone riuniti attorno alla tavola apparecchiata erano come le statue d'oro degli apostoli della saint chapelle pilastri simbolici e consacrati davanti alla sacra mensa quanto a quel pezzetto di giardino che si stendeva tra alte mura dietro il palazzo e dove l'estate madame de guermont dopo cena faceva servire i liquori e l'aranciata come avrei potuto non pensare che sedersi tra le nove le undici di sera su quelle sedie di ferro dotate dell'analogo grande potere del divano di cuoio e non respirare nello stesso tempo le brezze tipiche del faubourg saint germain sarebbe stato altrettanto impossibile quanto fare la siesta nell'oasi di figuig senza essere nello stesso tempo in africa non c'è che l'immaginazione e la fede che possano diversificare dagli altri certi oggetti certi esseri e creare un'atmosfera ahimè forse non mi sarebbe mai stato concesso di posare gli occhi su luoghi pittoreschi su quegli accadimenti naturali quelle curiosità locali quelle opere d'arte del faubourg saint germain e mi contentavo di trasalire scorgendo dal mare aperto senza sperare di approdare mai come un minareto sopraelevato come un primo palmizio la cima di un'industria o una macchia di vegetazione esotica il frusto zerbino della riva